Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione ed è sulle serie del libro di Apocalisse e oggi tratteremo con il libro di Apocalisse capitolo 8. Ma prima di iniziare voglio ringraziare e lodare e dare tutti i lodi dovuto al Padre Yehawah nel nome di suo figlio e nostro re e salvatore e rendentore Yehawah Shai e i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità. E come sempre pace e saluti alla Casa di Israele, a coloro che con sincerità cercano questa verità, a coloro che stanno lavorando su questa avvenia in questi ultimi giorni, i miei saluti. Io vorrei consigliare a coloro che stanno vedendo questo video magari per la prima volta di andare ad iniziare con le serie del libro di Apocalisse. Ho iniziato penso con il capitolo 5, ho fatto il capitolo 5, 6, 7, ok? Ho penso ho fatto 6, 7, non mi ricordo comunque. Basta andare a vedere dall'inizio dei libri di Apocalisse che ho fatto. Ho anche fatto una serie che è in realtà il libro di Apocalisse capitolo 9 che ho tirato fuori la prima, la seconda e la terza guerra mondiale e ho fatto vedere dove è stata registrata la prima guerra mondiale nelle scritture, ok? E anche quello serve molto perché ne ho messo delle immagini per farvi capire molto meglio quello che vedeva Giovanni perché questo libro è scritto da Giovanni, era sull'isola di Patmos dove è stato esiliato e qui il padre Jehovah Shem Jehovah Shaila ha dato la visione, ok? E in quei suoi giorni là vedeva cose futuristiche che non aveva nemmeno le parole e ha dovuto descriverli con le cose che conosceva in quei tempi là perciò consiglio ad andare a iniziare a vedere quella serie là la prima guerra mondiale è registrata nelle scritture e poi andare andando a vedere il capitolo 6, capitolo 7 e oggi inizio ora con il capitolo 8 inizio leggendo da versetto 1 quando l'agnello apre il settimo sigilo e fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora e questo è letteralmente proprio circa mezz'ora perché Giovanni vedeva questa visione e ha visto che l'agnello che è il figlio del padre Jehovah Shai colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù ha aperto il settimo sigilo il numero 7 vuol dire il numero di complezione non so se posso usare la parola complezione vuol dire completa una cosa completa e appena ha aperto il sigilo c'era il silenzio nel cielo per circa mezz'ora ok? e Giovanni guardava poi dopo mezz'ora vedi poi vedi i sette angeli che stanno in piedi davanti al Yahawa e furono date loro sette trombe sempre il numero 7 vuol dire complezione e venne un altro angelo con un incensiere d'oro si fermò preso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro e posto davanti al trono e come sappiamo coloro che seguono i video abbiamo già fatto altre lezioni riguardo i santi chi sono i santi? i santi sono i figli di Israele ok? i santi sono i figli di Israele ho fatto anche una una lezione su questo perciò per capirne in modo di più con le prove scritturali basta andare a vedere i veri santi e cosa volevo dire? vi faccio vedere che c'è questa versione che vi consiglio di usare sempre che è la versione traduzione interconfessionale in lingua corrente questa versione se leggete vedete che lui dice e inizio leggendo da qui e dalle mani dell'angelo il fumo dell'incenso sali alla presenza di Yahweh con le preghiere del suo popolo ok? quindi quella prima parlava dei suoi santi e questo parla del suo popolo e sappiamo bene che il popolo del padre è Israele ne ho fatto molti video tirando fuori questo punto qua perciò andate a vedere i veri santi torno in questa versione perché è la più facile da capire nuova riveduta anche se consiglio sempre di paragonare tutte le versioni che avete possibile ok? e andiamo avanti e queste preghiere sono le preghiere che i figli di Israele i santi coloro che conoscono la verità che stiamo pregando affinché il suo regno possa tornare perché vediamo che questo regno è degenerato stiamo soffrendo questo regno qui non regna il bene regna il male in questo regno perciò le preghiere che abbiamo sempre fatto e sapete quando viene ucciso uno innocente che è di Israele le sue preghiere il suo spirito torna al padre e torna nel mondo dello spirito e lì fa le preghiere affinché il padre possa vendicare vendicare il suo sangue se ricordate il libro di Genesi quando Caino aveva ucciso Abele il suo fratello il suo sangue piangeva dalla terra ok era un'allegoria per dire il suo spirito che chiedeva la giustizia ed è questo e finalmente le preghiere arrivano al padre e poi andiamo a vedere poi poi l'angelo prese l'incensiere lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra e ci furono tuoni voci lampi e un terremoto e qui tutto quello che abbiamo letto fin qui sta parlando proprio della fine fine ok della fine fine già siamo proprio ci manca niente per questi versetti affinché arrivano io non credo che andremo oltre i tre anni a parte che nessuno sa il momento nessuno sa il tempo ma ci è stato dato dei segni da guardare ok e questi segni come li stiamo vedendo dallo spirito non credo che andiamo anzi oltre i due anni perciò vi consiglio coloro che con sincerità cercano questa verità e vogliono avvicinarsi proprio al padre cioè tornate tornate adesso cioè prima che le cose siano difficili tornate adesso perché tra poco non avremo nemmeno più la possibilità di condividere di condividere questa verità d'accordo al libro di Amos capitolo 8 versetto 11 che dice manderò una fame non di cibo ma della parola ok arriverà quel momento che noi che siamo i suoi messaggeri non riusciremo più a fare questi lavori ok andiamo avanti i sette angeli che avevano le sette trombe si preparano a suonare il primo suonò la tromba e grandine e fuoco mescolato con sangue furono scagliati sulla sulla terra qui sta parlando dei missili ok i cbm ok sta parlando delle bombe nucleari ok e fu bruciati bruciato un terzo della terra un terzo degli alberi e ogni erba verde ok qui questo terzo sta parlando dei fili di Esau un terzo di loro vengono distrutto subito appena è stato scagliato questo questa bomba qui ok che porta la terza guerra mondiale ok qui sta parlando proprio della terza guerra mondiale ok e se guardate una cosa se guardate capitolo capitolo 7 di questo libro anzi andiamo subito e dice leggo dai primi tre versetti che dice dopo questo vedi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra affinché non soffiasse vento sulla terra né sul mare né su alcun albero poi vedi un altro angelo che saliva dal sole levante il quale aveva il sigillo del padre Yahweh vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare dicendo non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché non abbiamo segnato l'altra parola più giusta sarebbe sigillato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro padre Yahweh ok e questo sta parlando ok perché qui cosa succede gli angeli che dovevano distruggere gli è stato detto di fermarsi di non distruggere perché non sono stati sigillati gli eletti del padre ma invece se torniamo dove siamo capitolo 8 sta parlando di dopo il sigillo qui tutto questo succede dopo il sigillo degli eletti della casa di Israele ecco perché l'angelo gli è stato dato il via ok perciò qui sono stati tutti sigillati ok Yahweh il padre ha ricevuto le preghiere dei santi sono stati tutti sigillati ok e poi cosa succede il primo suonò la tromba e grandi nel fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra questo sta parlando dei missili nucleari ok se volete capirne di più basta andare a vedere le guerre mondiali registrate sul libro di Apocalisse le serie che ho consigliato di guardare dall'inizio e fu bruciato un terzo della terra un terzo degli alberi ed ogni erba verde questo terzo sta parlando dei figli di Esau i figli di Mavagi ok la razza caucasa caucasu ok perciò non è neanche il colore che conta come dico sempre perché tanti israeliti sono mescolati con loro e saranno come loro ok andando avanti poi il secondo angelo suonò la tomba e una massa simile a un grande montagna ardente fu gettata nel mare ok questo sta parlando sempre delle bombe nucleare un terzo del mare diventò sangue un terzo delle creature viventi che erano nel mare muori e un terzo delle navi andò distrutto ok questo non sta parlando altro delle bombe nucleari ok che infatti se state guardando bene i giornali vedrete che la Russia assieme ai Emirati Arabi Cina ok si stanno preparando ok per un'attezza guerra mondiale contro America e America verrà bruciata perché quando leggete su sulle scritture vedete la Babilonia ok da da dopo diciamo nel Nuovo Testamento e tutto questo sta parlando di America ok anche dai libri di Micah Naum Amo sta parlando anche Isaia sta parlando dell'America questa ok perciò si stanno preparando tutti per una terza guerra mondiale ma che cosa è l'inganno l'inganno è che vi dicono la terza guerra mondiale è una guerra come si dice una guerra psicologica si soffriamo anche quello ma da tanto ma ci sarà una guerra fisica ok si stanno preparando degli almi delle bombe nucleari assurde infatti da poco è stato ammazzato un generale dell'Iran ok e tutte le dita si stanno puntando verso Israele e sapete com'è Israele è un piccolo è un piccolo paese creato dall'America ok che non sono i veri ebrei ok e quello lo vedete anche nel libro mi sa di Apocalisse capitolo 2 dai versetto 10 così o Apocalisse 1 che gli ebrei che sono quelli che si chiamano che dicono che sono i giudei non sono i veri ebrei ma una sinagoga di satana ok perciò andiamo avanti ne ho anche parlato di questo in un video ancora precedente i fili dei malvagi perciò io consiglio per chi cerca questa verità io non lo faccio per visualizzazioni o chissà cosa non mi ne frega niente non sono non sono non non me ne frega nulla di visualizzazione e tutto resto ok cioè sto solamente mandando questi messaggi perché mi è stato comandato dal mio padre sto facendo il suo lavoro ok e sto svegliando i figli di israele ok questo è il mio lavoro è il mio tutto perciò io vi consiglio per capirne di più di tutto chi vuole capire tutto andate a vedere dai video ok perché anche io quando imparavo questa verità quando imparavo dagli apostoli anziani andavo in una pagina e guardavo tutti i video su quella pagina ok per avere la conoscenza completa di questa verità qui ok andiamo avanti poi il terzo angelo suonò la tromba e dal cielo cade una grande stella ardente con una torcia ok questo sapete come quando vengono lanciati questi missili ok c'è il fuoco sotto che li propella e tutto è quello che vedeva Giovanni e doveva 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 spiegarlo nelle parole che conosce perché vedeva un futuro ok questo è un missile la bomba atomica ok che piombò su un terzo dei fiumi e sulle soggetti delle acque ok il nome della stella è assenzio ok in inglese c'è woodworm ok un terzo delle acque diventò assenzio andiamo a vedere un'altra versione di cosa dice qui ok vedete qui invece qui invece dice ok il nome della stella è assenzio un terzo delle acque diventò amaro come l'assenzio e molti di quelli che ne beverono morirono perché era avvelenate ok cioè una cosa amara non uccide il gusto è amaro ma non uccide ma questo cosa sta dicendo qui è la radiazione della bomba nucleare rende l'acqua avvelenato e coloro che ne andavano a bere morivano ok tutto questo sta parlando questo libro è concentrato sulla altezza guerra mondiale che sta per arrivare ok e andiamo avanti quando il quarto angelo suonò la tromba furono colpiti un terzo del sole della luna e delle stelle la loro luce diminuì di un terzo e un terzo del giorno e della notte rimase privo di luce cosa può fare questo il fumo che esce il fumo che esce dalle bombe nucleare erano così tanti tanti missili che il fumo è salito e ha coperto la luna e il sole ok lasciando tenebre ok lo guardai ancora e udì un'aquila che volava alta nel cielo gridare a gran voce sventura 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 a voi abitanti della terra ora gli altri tre angeli stanno per suonare le tre ultime trombe ok e questa sventura sventura è un indizio per farvi capire ok perché la parola sventura guai sono sta dicendo che è il terzo guerra questa è la prima la seconda e la terza ok vi sta capendo che ecco la terza guerra mondiale ok perciò per capire molto di più perché ora vi lo sto spiegando a lampo perché ho fatto già lezioni che vi farà capire la chiave per capire bene questa guai 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 vedete che sono tre sono andate a vedere i video che la prima guerra mondiale è registrato nelle scritture ok andate a vedere quel video che è molto importante lì ho dato delle chiavi con video della guerra mondiale per farvi capire queste cose che vedeva Giovanni ok per poi andare avanti spiegando questi versetti senza dover fare la stessa cosa perciò questi guai vi sta facendo capire che è la terza guerra mondiale ok è il terzo ok sono tre uno due tre questo vuol dire la prima guerra mondiale la seconda e la terza spero che siete stati edificati spero che ho fatto chiarezza su questo libro di Apocalisse capitolo 8 nella forza del padre che quello che ho detto è nella forza del padre di Yahweh ok Baha Shem vuol dire nel nome di suo figlio Yahweh Shai nostro re rendentore la lingua è ebraico antico ok detto questo voglio dare i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Gretz Mewstompia avermi insegnato questa verità e come sempre Shalom alla prossima Shalom Shalom